Una nuova pagina di cronaca è stata scritta nel romanzo criminale della città di Foggia, dove ieri sera un altro ordigno è stato fatto esplodere dalla malavita locale, l'ennesimo dall'inizio del 2020. Ad essere colpito intorno alle ore 22 è stato lo studio di un perito assicurativo a Medeo Matera al civico 35 di via Molfetta, nei pressi di piazza Padre Pio. La bomba è stata collocata davanti alla saracinesca dell'attività, provocando danni alla parte esterna del locale e due autovetture parcheggiate in strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il boato, fortissimo, è stato udito in diverse zone della città e ha fatto tremare i vetri di alcune abitazioni del quartiere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area e poi di polizia e carabinieri, che hanno raccolto una prima testimonianza della vittima giunta sul posto. L'uomo ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive dalla criminalità. Non ha mai nessuna intimidazione, niente, nessuno. Di cosa si occupa nella sua attività di perito? E ci assicuro di me, per quello delle situazioni. Quando l'hanno chiamata, che ha pensato? E dovevo pensare questo? Stavo dormendo? L'attentato, il quinto messo a segno dall'inizio dell'anno nel capoluogo Dauno, l'ultimo risale a meno di un mese fa, è stato compiuto a 48 ore dall'operazione antimafia Decima Bis, con la quale i carabinieri hanno smantellato una pericolosa organizzazione dedita prevalentemente alle estorsioni e ai danni dei commercianti. 40 le persone finite in manette, tra le quali molti esponenti di spicco dei clan storici della cosiddetta società foggiana, come i Moretti Pellegrino Lanza, i Sinesi Francavilla e Triscioglio Tolonese Principe.